Ok Dopo tanti tentativi Ci riproviamo l'ennesima volta Troppo ragazzi, le stiamo vincendo tutte Ma senza Arrivare a 20 kill Tutte di fila Abbiamo fatto tipo qualche 7-8 win di fila E non riusciamo ad arrivare a 20 kill Cioè quella di prima Si è arrivata a 18, un'altra si è arrivata a 17 L'altra si è arrivata a 13 Un'altra a 17, a 20 non ci arriviamo È pazzesco Mamma mia È sempre che scendiamo a finnare Ma vi rendete conto? Vai, finna Vai, che c'è due C'è una pozza e un'arma Ma attento che c'è un'arma Spaccando? A terra zio Bravissimo Uh, minchia Questa aveva trovato il mondo Oh, mi aveva trovato il mondo C'è un pompa qui Il singolo colpo, ne? Ciao, ciao, ciao Verde? L'ho verde L'hai messa tu la trappola? Sì, aspetta Per arrivare il tipo Spenditi dalla stanza Bro Eh, vieni, bro Vieni, c'è chi sta qui Vai sopra di noi o sotto di noi Ma sei tu che l'hai messa? Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Vi haddele shieldini, ne? E vieni Guarda che quella pozzata 50 che c'è là Sto 295 Ah minchie Ah paura Senti io mi sono rotto il cazzo Poi che ti vedo qua sotto E qui Mi hai portato tu? Sì 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 E stava rimanendo accamperato Ma che cazzo Ma non aveva niente poi Sì Tu io preso Automatico verde Con lo singolo Verde lo buco Beto 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 Boca 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 Cazzo staff Cazzo staff Mi sono riuscita Ci hanno fatto un ponte qua per C'è la verde fuori Dov'è? Eccolo lo vedo sotto al TACOS TACOS QUIQUID Ok, si 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 C'è la discesa Bella Madonna che cazzo gli ho fatto Mi servono colpe d'immalo ora Della R si, ne ho 41 Quanti? Tieni Dov'è? No, ti l'ho messo Ehi, c'era una pozzetta sua Dov'è? Qui Un po' di loot Mi fa lento questa Ehi, la pozzetta 50 che vi hai visto? Era qua sopra Andiamo a prenderla Qui Questa che costruente la mi ha fatto manco unit L'ho preso in volo Un'altra bombata Se trovasse il pompa colpo singolo Eh, ma che colore? Anche bianco Colpo singolo Colpo singolo bianco non resiste più eh? No, colpo semi automatico Ah, semi automatico Ehi, colpo singolo Qui c'è l'auto nubo, lo vuoi? No Qui Vieni, 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 vieni Ho trovato verde Eh, il cintini li teni tu allora Ehi, io ne ho tre Oh Che cosa ho sentito gente? È qui È qui È qui sopra È qui sopra È qui sopra Buon ragazzo è mezzo Bravissimo E mi ha tolto il cazzo di scudo Allora, Nico Si, stavano camperando in casa Ora mi ha tolto Io adesso sai cosa faccio? Tutto questo E' baffone Ehm Ehm Hai i golpi del lanciapatata eh? Eh Certo, te lo dico così quattro, tieni Buon Tutti lì Andiamo Col da granate c'erano? No Oh Oh C'è giù Ma non c'è già l'anno, c'ho dato Ah, io un'altra volta ho potuto tirare la freccia Oh C'è un distributore qui C'è la Doll Vedete la cosa è blu? Buono Cos'altro? Soltanto queste cagate? Vaffa 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 Pfff, vento tu rimeeena! Ok, buono! Sto spiando, c'è un boschetto! Non so se prendere le bende, non c'è la granata! Io ne ho 15 bende! Eh, allora siamo a posto! Qua che c'è di loot? Tra la R, una USP viola! Stiamo, andiamo! Tu tu tuuuu! Tu tu tuuuu! Oh! Andiamo a sapere questa montagna! Lì, davanti a noi, davanti a noi, sono di 195! Eh, ma c'è gente pure qui sopra, cazzo, che sta faiettando! Peccato! Oh! Eccolo, davanti! Un colpo gli ho dato! Ho un altro! Oh, oltre dentro! L'altro è dall'altra porta! È dentro! È nobbissimo! Certo! È ovvio! Intelligente! Muori! Ma lo sceldi! Ma l'altro l'hai lootato, no? No, no, no! Stavo andando adesso! Minchia! Aveva Slurp! Scarr! Per... Eh... La pozzata! Ma... Non è loot di quel tipo che ho ucciso io! Ma che che... C'è questo? Avevo il mondo! Ah, no! Nico! Fatti... Lo Slurp! Ce ne sono due Slurp! Ce ne sono due Slurp! Eeeeee... E la Caraffa che fa? La piglio io e la Caraffa! E se vuoi la posso spendere io anche! La Caraffa? Oh! Sì! Sengo il medico allora! Eeeeee però che palle! Devo aspettare! Perché devo aspettare due seconda per... Per... Loro! Materiale si è apposta? 500... 455! Si! 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 Ma... Ma il loot di quello che ho killato io, era quello? Buu Una boh boh Eh, missile ne hai? Oh, puoi restare? No, zero Questo vampa è blu Eh, l'ho buttato perchè c'era lo scar C'è gente qui, nico Una terra L'altro? E' l'altro da me Morto Che mi costruisce? Oh Che non mi costruisce? What? Lì si era un pallau Vabbè, non mi faccio in tempo a fare gli slurp Un, mamma, rua Vabbè, ti fai la pozza da... Mi conviene, stavolta che mi fuggisce lì Vai tranquillo che... Sì, no, tu ti fai la pozza Io mi posso fare... Vabbè, non c'ho bisogno, eh 92 mili Mi conviene far me la sto dicendo o no? Ma come vuoi do? Non lo so Eh, dai, la uso perchè tanto poi dopo è difficile usare Sì, infatti C'eva... c'eva cose Io stavo cominciando a salire qui nella montagna, eh Biam... pushare Pushare e basta Provandola però Questo abbiamo 10 kill Nica, un'altra Lolle, pure lo scarni Ho aperto sta roba, guarda che è uscito io ce l'ho la scar guarda le kill e guarda il remain non ho né trappole c'è gente ah no l'hai visto che di là ma pure dietro di noi c'è gente vieni vieni lasciali perdere quelli qui sotto si hai sentito si quel nobbo è campionato in casa ahia qua 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 anche lo davanti che non mi ha visto bella niente davanti non mi vedeva ehi sorry ragazzi tieni da nord l'ho visto bellissimo era precisa beh non l'hai capito qua io devo più ammazzare pure così tranquillo 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 allora siamo ti ricordo che c'è siamo a 12 niente qui dentro questa casa marroncina c'era uno infatti c'è è mortissimo è mortissimo è caduto giù bella ok ho tre mediche tioni questo lo cambio gli altri li posso prendere io sei chino dorato o no? sei con ok bastardo ti prego ti devi riuscire a fare quello è morto è morto bravissimo copriati c'è gente da me è morto è morto è morto lancia 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 davanti casa è stato che casa lancia fico non c'è lancia lancia è morta 11 7 18 18 che è buonissimo ragazzi ragazzi io vi ringrazio per la visione di questa bella win con il grande etl team e che dire ragazzi ringraziamo anche nico capo che ha fatto 11 kill ragazzi noi abbiamo fatti 7 però si gioca di squadra ed è sempre così con questa canzone io vi ringrazio e ringraziamo anche nico bella bella hai qualcosa da dire nico no niente easy win easy win e niente da nico capo e dark chaos è tutto bella ragazzi